ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale allora oggi non farò la terza parte delle missioni della mezza estate perchè comunque visto che ho un po' di star coins volevo andare a prendere diciamo un cavallo volevo prendere un cavallo però volevo dirvi che questa è l'ultima settimana del festival della mezza estate quindi comunque un po' di missioni poi le faremo con il cavallo nuovo adesso però usciamo dalla stalla e vediamo un po' i cavalli che potrei prendere allora io inizialmente avevo pensato al cavallo quello che è appena uscito io volevo prendere questo cavallo qua che ovviamente visto che non sono star rider prenderò a forpinta perchè comunque a forpinta c'è allora prima andiamo a vedere questi cavalli che comunque è uscito anche un nuovo metodo di acquisto infatti io non lo conosco ho paura di fare qualche diciamo qualche errore allora questo è il proteus generazione 3 allora sinceramente a me non piacciono perchè comunque a me piacciono più quando non sono cioè guardate come sono belli quando non sono a pesce a me non piacciono quando sono a pesce hanno un punto di forza velocità 0, resistenza 0, agilità 3, disciplina 2 credo per tutti sia per il primo sia per il secondo esatto questo è il sedeno, questo è il proteus indietro allora questo ah quando fai per personalizza mi sa che ti mette anche l'età credo comunque a me non piace allora andiamo avanti questa comunque è la stessa cosa però è di un'altra razza, di un altro colore e diciamo che mi piace anche questo quando non è magico cioè è bellissimo quando non è magico però ovviamente non lo prendo perchè non voglio spendere 900 per poi un cavallo che se si trasforma non mi piace poi qua troppo esagerato 350 star coins per un gatto io già ce l'ho il gatto ed è pure più bello quello che è a terra questo qua e poi vabbè c'è questo che invece è l'altro cambia soltanto la razza del gatto adesso però andiamo a Forpinta ad esaminare il cavallo che potrei prendere allora questi sono tutti i tipi di cavallo scendiamo dal mio allora cominciamo da qua è questo che è il Clydesdale io già ce l'ho quindi qua si può anche cambiare il manto e la cuniera eccetera però non lo prendo poi c'è invece questo che è questo Lember vabbè questa razza Lember Dane e si può sempre cambiare il manto e la cuniera e neanche questo prendo ecco qua le due scelte allora c'è o questo che comunque a Forpinta hanno messo un cavallo bellissimo di questo cioè è un sacco bello e la cuniera vediamo quale si può prendere allora la più bella è la cuniera lunga poi per il manto c'è questo che comunque è buonissimo vediamo le animazioni questo è cammina questo è trotto galoppo modellato galoppo e galoppo rapido ok galoppo rapido è bellissimo e poi quando è a riposo comunque è bello allora anche lui ha un punto di forza disciplina 2 resistenza 0 velocità 0 agilità 3 e sfoglia razze ah credo queste siano le razze di Forpinta quindi non ci importa non ci importa diciamo che se io compro questo cavallo poi mi restano circa 100 star coins però ne vale la pena perché è bellissimo vediamo invece l'arabo per l'arabo potrei anche aspettare perché tra l'altro questo è soltanto l'arabo nero e io comunque se volessi comprare l'arabo lo vorrei di un altro colore non nero magari bianco non lo so anche qua si può cambiare la criniera che comunque è sempre bella lasciarla al naturale e niente le animazioni sono queste trotto galoppo moderato galoppo e galoppo rapido e niente questo proprio non mi piace cioè l'arabo non mi convince però mi piace cioè guardiamo un po' come stiamo insieme cioè sarebbe bello però ovviamente andiamo a prendere questo perché è anche un cavallo che è uscito da poco e comunque io lo voglio comunque prendere da appena uscito perché io comunque giro sui video di youtube di star stable e trovo persone che comprano questi cavalli allora decido di andare su star stable e comprarli io direi di comprarlo ok allora compriamolo le razze appunto non ci interessano ops allora dobbiamo fare personalizza e compra scegli un nome per il tuo cavallo ora lo scelgo genere giumenta e età giovane allora è di generazione 3 vediamo scegli il nome per il tuo cavallo e allora ragazzi sono riuscito a trovare il nome per il mio cavallo per il mio nuovo cavallo ho scelto red melody che dovrebbe essere melodia rossa sì praticamente il suo nuovo nome significa red melody quindi significa melodia rossa e sinceramente a me piace un sacco questo nome e poi gli si abbina un sacco e il primo nome a scegliere è stato melody ok adesso io direi di comprare vediamo oh acquista cavallo vuoi davvero comprare questo cavallo? sì no che bello adoro no io mando nella stalla però è bellissimo mando nella stalla ok adesso andiamo subito alla stalla base così almeno posso cavalcarlo venite a prendermi che bello ho comprato un altro cavallo dai 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 oddio credo che mongerò questo cavallo per il resto dei miei giorni ok mi sono rimasti 120 star coins credo di andarmi a prendere qualche coduta te oddio dov'è dov'è dove l'hanno messo dove l'hanno messo eccolo eccolo ok di stella di stella veloce 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 di stella mettine la stalla tic tic dai sì 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 dove è dov'è 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 eccolo 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 no vabbè bellissimo allora diciamo che io le andature oddio che nano però piccolo diciamo che io le andature appunto le abbiamo viste prima però cioè è fighissimo quando lo monti oddio ok adesso dobbiamo preparare subito l'outfit oppure direi di mettere questo che ho messo già prima candy cake vediamo com'è oddio è bellissimo poi quest'outfit gli sta benissimo ok perfetto ora lo monterò per sempre allora io adesso direi visto che adesso abbiamo acquistato questo bella l'impennata visto che io adesso ho comprato questo nuovo cavallo direi di andare a fare qualche missioncina proprio veloce veloce andiamo io poi devo anche vedere la frenata com'è perciò questo può essere anche un modo fare le missioni può essere anche un modo per vedere altre andature capito raga cioè è quello il senso no adoro che bella la frenata ma assomiglia un po' a una razza di cavallo cioè mi sembra che l'hanno un po' copiata però bellissimo proprio allora sinceramente riguardo al festival di mezz'estate mi dispiace che questa sia l'ultima settimana perché comunque c'erano ancora tante missioni cioè credo che termini questa domenica perché comunque questa è l'ultima settimana quindi ok allora facciamo qualche missione tanto ce n'è rimasta soltanto questa qua c'è rimasta e poi è finito completamente il festival per me for me però comunque resteranno tutti i giochi allora lascia i saluti di mezz'estate no vabbè la cassetta delle lettere ok dove sono i saluti? ah devo mettere devo scrivergli la saluti peccato vabbè grazie per l'aiuto no sono finite tutte le missioni vabbè allora avrò un po' più tempo per vedere quante cose ci sono qua dai su mi voglio comprare qualcosa allora qua forse si è più selta però non mi piacciono le cose che vende come si fa a comprare raga? raga? ok compra che tanto c'è queste costano uno quindi è anche accettabile per dire cioè non è che ti toglie tutti gli york shillings poi comunque questo si compra con gli york shillings quindi è è semplice allora prendiamo l'ultimo prendo questo che è bellissimo ok vediamo dov'è? ok ne ho presi abbastanza ho preso questo per il cavallo no però per il cavallo è bello prenderne anche altri perché ne ho presi pochissimi per il cavallo o ce ne sono pochi per il cavallo ma non penso ah no ok vediamo quelli che ho preso io e ce ne rendo ci prendo quelli abbinati oh questo è bello questo è veramente bello bellissimo allora mi stanno togliendo allora ne posso prendere altri due così almeno arrivo a 30 poi a 4630 ok allora potrei ma questo l'ha preso ah questo invece è quello per me ok bello proviamo a mettere io direi di mettere questo un po' diciamo con le conchiglie sono conchiglie vero si corona conchiglie bello che poi diciamo che ho un po' visto che l'azzurra si abbina un po' anche all'outfit a tutto vediamo il salto com'è bello ok allora non so come è fatto già ad arrivare a uno e passa però vabbè ok allora ragazzi il video ci conclude qui purtroppo sono finite avete anche le missioni della mezza estate quindi non ci sarà la parte 3 nelle missioni della mezza estate non ci sarà perché vabbè sono finite e comunque abbiamo fatto questo nuovo acquisto mi sono rimasti soltanto 120 star coins ma vabbè meglio di niente niente mettete like e iscrivetevi al canale ci vediamo in un prossimo video ciao ciao